benvenuti benvenuti cari amici siamo b di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il like iscrivervi il canale iscrivervi anche il canale telegram andiamo a vedere quello che sta avvenendo sul giornaliero ma soprattutto oggi spazio a pepe perché ci sono notizie ok non buone andremo presto a vederle però il prezzo attuale sembra molto interessante per cui vediamo ftx più 10 per cento che vediamo sempre un ftt che va a fare questi pump and dump ok quindi molto interessante ok per chi piace tradare soprattutto sa le zone di supporto di resistenza e soprattutto noto anche un xrd col più 10.6 per cento buona che stella che sta continuando che la sua corsa quindi premete la prossima buranda vero stella lumens andrà a fare numeri pazzeschi mora spazio ok a pepe perché c'è stata ancora notizia hackeraggio del gruppo telegram di pepe andremo presto a vederlo però il prezzo attenzione che sta tenendo siamo a 787 e secondo me l'action è molto interessante che in questo momento quindi nonostante i founder che sono andati a prendere svariati milioni di dollari per quanto riguarda i pepe venduti poi ora c'è stato questo hackeraggio del twitter e così via il prezzo in zona supporto quindi attenzione o chi è pepe chiede a gruppo cavo e sa che la strategia che sta attuando su pepe quindi se anche tu vuoi conoscerla poi per notare tutto quella gratuita ok se vuoi entrare dentro ovviamente gruppo andiamo a vedere quelli che sono un po i dati di pepe in questo momento market cap di 308 milioni quindi praticamente nulla cosmico vi ricordo che shiba nel precedente buran addirittura fece un 100x ai massimi rispetto a questa market cap quindi vedremo se pepe sarà capace di raggiungere tali numeri e il volume in questo momento sono i 37 milioni quindi veramente non sta avvenendo niente e quello che a me piace di pepe che la circolazione di supply è quasi stata raggiunta ok 93 di pepe scusate il 93% di pepe è letteralmente in circolazione ok in questo momento quindi secondo me è una coin fortemente interessante ok all'interno del gruppo meme dopodiché vorrei ricordarvi un po quella che è stata la storia di pepe perché circa 10.6 trillion erano stati venduti ok dai confounder di pepe successivamente c'è stato un dampone ok non se vi ricordate fino a nemmeno due settimane fa stavamo in zona 1300 addirittura anche 1400 e ora praticamente siamo prezzo alla metà mi riesco a me è molto interessante il tutto soprattutto anche perché andrò a mostrarvi quello che stanno facendo gli exchange ed ecco qui la notizia perché c'è stato l'hackeraggio del gruppo telegram di pepe il soggetto in questione poi andato a mettere numerosi ok i progetti ovviamente scam ovviamente la gente tantissima ha comprato e poi si sono ritrovati con le noccioline ok questo è stato quello che è venuto quindi ovviamente se siete dentro al gruppo telegram di pepe state attenti ok perché stanno lasciando scam a manetta quindi probabilmente ne creeranno uno nuovo e così via hanno detto che praticamente gli unici annunci che daranno saranno quelli su twitter ok vi ricordo il twitter è questo con circa 500 mila follower quindi sono veramente ma davvero tanti poi dobbiamo starvi anche quello che sta venendo a livello di numero di holders perché siamo siamo 138 mila quindi insomma non sono pochi ok nonostante tutti i casini che sono successi su pepe e ovviamente binance sta holdando circa il 25 punto 25 per cento anche perché mi sono andato a guardare quello che l'api in earn su pepe in questo momento addirittura danno un 0 12 per cento quindi veramente niente un chi è all'anno quindi secondo me anche binance è bullish ok su pepe e ha un controvalore di circa 83 milioni quindi direi molto interessante il tutto poi andiamo a vedere anche quello che sta facendo binance perché guardate qui l'accumulo continua ok secondo me è molto interessante il tutto vi ricordo l'ultimo accumulo che fece binance era quel famoso 12 giugno numero 23 quando ci fu il dampone di pepe e poi andarono a scaricare ora stai accumulando quindi fate voglia vostre considerazioni ovviamente non è detto che avvenga quello che avvenga però ci deve far riflettere la stessa cosa sta facendo anche ok ex quindi occhio ok questo volevo dirvi dopodiché andiamo a vedere quello che sta venendo super in questo momento prezzo di 780 proprio sul supporto ok storico dove addirittura avevamo fatto un 750 insomma 780 750 cambia poco e secondo me qui potremmo ripartire e soprattutto nel breve ma in caso di notizie tra virgolette io penso arrivare a una notizia ok no se non è che sarà bitcoin che farà tornare pepe in auge con un pump del 10% che non sarà assolutamente bitcoin ma quello che sarà probabilmente sarà qualche notizia positiva che magari probabilmente il riacquista a parte di fondare di pepe o notizie di questo tipo ok però secondo me pepe ripartirà ok quindi chi dice che è scam e così via dopo tutto può essere ok però io sono fermamente convinto vedete qui anche in questo momento sto utilizzando binks trovi sotto la raffa in descrizione avrai 20% di sconto sui train fees volevo mostrarti proprio qui come ci sia questo supporto chirurgico esattamente del 12 giugno 2023 per ricordartelo quello che fece binance 12 giugno 2023 andò a accumulare il massimo ok relativo ora sono andati nuovamente a riaccumulare ancora di più rispetto al 12 giugno quindi secondo me qualcosina boll in pentola ok dopo potrei sbagliarmi ovviamente siamo tutti umani quello che volevo mostrarvi è anche la situazione in generale sui mem token perché in questo momento siamo a 14.6 miliardi come vedete al comando troviamo sempre dogecoin con 8.9 miliardi shiba inu 4.4 pepe 331 milioni quindi c'è un grande divario che tra la terza e la seconda che secondo me prima o poi verrà colmato ok quindi attenzione e soprattutto c'è stato anche in questo inserimento di questa nuova coin bella idea che poi andrò ancora una volta a parlarvi che sembra avere diverse analogie con shiba ok quindi attenzione anche a tutto questo proprio di shiba ok volevo andarvi un attimo a parlare prezzo terminale in questo momento di 7.62 qua abbiamo market cap di 4.5 miliardi e i volumi stanno letteralmente crescendo ok abbiamo volumi di 68 milioni e secondo me dobbiamo puntare ok gli occhi su shiba inu in questo momento ovviamente nell'interno del gruppo cavoi stiamo costruendo una strategia su shiba quindi se anche tu vuoi migliorare quelle che sono ovviamente le tue skills ma soprattutto iniziare a fare numeri e a capire come si fanno numeri però è stato con gratuita e volevo dirvi anche questo guardate qui il numero ok di 3 milioni di shiba sta aumentando aumentato del 17% in ogni miei 30 giorni ma questo non vuol dire che stanno facendo soldi questo vuol dire che stanno andando a sfruttare quelli che sono i prezzi momentaneamente di shiba ok cioè questo dovete capire quando andare a sfruttare il prezzo poi c'è stato un altro tweet da parte di Lucy nel quale Apple appunto descrive che Shibanium comunque comporterà un booster per shiba bone e leash penso sapete tutti chi sia il token bone ok quello che diventerà delle gas fees di shiba quindi se volete vi lascio anche questo articolo allora non mi dico lungo troppo però insomma parlano di tutto l'ecosistema di come andrà a favorire la venta di Shiba Inu dopodichè vogliamo starvi con la collection di Shiba Inu in questo momento siamo a 7.63 buono perché stiamo scaricando settimana dopo settimana abbiamo questo primo supporto 7.12 che però dal mio punto di vista verrà probabilmente nuovamente breccato quindi andremo a chiudere ok questa formazione e potenzialmente anche con bel scarico di bit si potrebbe tornare in zona 5.60 quindi io assolutamente sto monitorando questa situazione vediamo se si andrà a concretizzare ovviamente ci vorranno mari settimane barra mesi però sono lì alla porta ok questa è un po' la mia idea poi voglio mostrarvi questa coin ok bad idea perché Lucy una dei principali influencer di Shiba ne sta twittando ok day after day giorno dopo giorno e tra l'altro Shiba Coins che è praticamente il negozio principale di Shiba Inu e anche di Bonn insomma di tutto l'ecosistema Shiba è andato ad inserire anche come vedete qui le felpe di bad idea quindi attenzione ok perché soprattutto io sono andato ad analizzarla anche insieme ai Cowboy nella live di lunedì ti ricordo se volete entrare dentro il gruppo Cowboy proprio andate a tocco gratuita sotto il link in descrizione e secondo me è una coin che ci interessa ok ci interessa tanto e soprattutto noi abbiamo dentro un target quindi attenzione e soprattutto vogliamo starvi anche quello che vogliono fare perché semplicemente diventando di validatori all'interno di bad brigade che praticamente è l'avento di questa nuova come potremmo chiamare swap tra virgolette di bad si potrà stakeare Bonn quindi si avrà comunque un earning cioè un ritorno ok in Bonn quindi addirittura favoriranno lo stake di bad idea per produrre i Bonn secondo me è un momento interessante il tutto come forma quindi questo che cosa ci dice che siamo fortemente collegati a Shiba poi lo stesso bad idea sta tweetando più volte sta anche taggando ok Lucy nel quale per l'appunto si ricollegano a Shiba si ricollegano a partnership e quindi secondo me il tutto è fortemente interessante poi vogliamo starvi anche come si sta comportando l'action ok di bad in questo momento perché siamo a 13.881 holders che insomma sono pochi però stanno crescendo giorno dopo giorno ok nonostante anche i vari scarichi che abbiamo durante le varie giornate quindi secondo me molto interessante ok il tutto e vogliamo starvi con l'action perché in questo momento siamo sotto i 40 milioni di market cap quindi praticamente una market cap non bassa ma di più e questo è il prezzo ok io ero tondo sempre a 7.51 e secondo me potrebbe far bene ok lì sta su varie exchange tra i quali anche BitGet ti lascio sotto il link in descrizione anche lì avrai 20% di sconto sui trading fees e come puoi vedere se volessi acquistarla sta su BitGet ok mi raccomando poi infine vogliamo andare a chiudere con Bitcoin in questo momento siamo a 25.872 dollari un Bitcoin che sta letteralmente lateralizzando abbiamo avuto anche sul settimanale qui una punta ok a 28.76 però dal mio punto di vista vedete che ancora a livello di RSI siamo ancora molto carichi quindi cosa potrebbe avvenire sarà dal mio punto di vista ok un weekend flat cioè come sappiamo noi di solito non ci sono volumi ok durante il weekend però quello che io mi aspetto è che da qui a qualche settimana a barra a mese Bitcoin avrà livelli inferiori rispetto a quelli attuali soprattutto in caso di rottura dei 25.2 che probabilmente manca poco potremo nuovamente ripiombare in zona 22 barra addirittura 20.000 dollari infine vorrei andare a vedere con voi anche quello che è il reparto che è delle altcoins perché in questo momento siamo a livello addirittura di 43 sui 90 giorni quindi insomma altcoins che hanno preso forza nei confronti di Bitcoin possiamo ancora prendere forza sì assolutamente ok ma soprattutto secondo me la grande occasione che potrebbe farti letteralmente svoltare o che ne mando a crypto sarà da qui al prossimo Buran perché sui annuali siamo a 16 quindi non è che siamo bassi ma di più e soprattutto ci sono alcune coin che dentro il gruppo cowboy noi stiamo trovando e stiamo monitorando che secondo noi potrebbero darci letteralmente numeri pazzeschi infine ti ricordo che se anche tu vuoi migliorare quelle che sono le tue conoscenze all'interno del mondo cripto iniziare a costruire una strategia ed essere profitevole anche all'interno di questo mercato che è letteralmente un far west ti ricordo che poi vi ho notato la tua cura gratuita trovi sotto il link in descrizione e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire il botone like iscriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista hombre